E bentornati ragazzi in questo nuovissimo video sono sempre io Felix oggi andiamo a vedere ben 5 metodi per guadagnare soldi comodamente da casa visto che siamo in quarantena ragazzi comodamente da casa utilizzando 5 siti andremo a guadagnare soldi e buoni regalo e prima di proseguire con il video come sempre volevo invitarti ad iscriverti al mio canale di youtube come vedete ormai stiamo raggiungendo i 26.000 utenti iscritti e dopo aver visto 5 applicazioni per guadagnare soldi da casa in quarantena oggi andiamo a vedere ben 5 metodi per guadagnare soldi da casa online mi raccomando ragazzi mettete un bel like al video iscrivetevi al canale attivate la campanellina se volete rimanere aggiornati su tutti questi metodi che ti permettono di guadagnare soldi da casa partiamo ragazzi con il primo sito è chiamato i cash mag questo sito qua ci farà guadagnare soldi gratuiti su paypal ci farà guadagnare bitcoin andando a creare degli articoli andando praticamente a creare dei post se ti piace scrivere post se ti piace scrivere articoli questo qua è il sito che fa per te come vedete ci sono un sacco di articoli che le persone normali come noi vanno a scrivere all'interno di cash mag e per ogni visualizzazione dell'articolo si viene pagati e come vedete qua nella destra scrivi e fatti pagare ci vado a premere sopra il sito ci dice se vuoi guadagnare soldi online il nostro sito web è stato creato grazie agli sforzi dei lettori come te lettori che non hanno avuto alcuna esperienza come scrittori ma hanno deciso di mettere insieme un elenco e inviarlo quindi basterà scrivere degli articoli il nostro articolo andrà in revisione una volta che avrà passato la revisione il nostro articolo sarà pubblicato all'interno di cash mag ma come guadagnare? guadagnare entrate per ogni articolo pubblicato nessun limite per gli articoli pubblicati deve essere contenuto originale al 100% quindi non possiamo andare a copiare gli altri articoli possiamo guadagnare con un programma di riferimento fino al 15% e si viene pagati tramite paypal non solo paypal ma anche bitcoin come vedete il prelievo minimo è di 5 dollari su paypal prelievo minimo invece con bitcoin di 3 dollari qua sotto andiamo a vedere praticamente i tassi di pagamento che cosa sono per ogni 1000 visualizzazioni andiamo a guadagnare noi che siamo in Italia ben 5 dollari il riferimento dei 5 dollari sono per le persone che guardano il nostro articolo dall'Italia se qualcuno va a guardare il nostro articolo dagli Stati Uniti o dal Regno Unito andiamo a guadagnare ovviamente di più tutti i guadagni li andiamo a vedere poi nel nostro account ragazzi una volta poi entrati all'interno di eCashMag per andare ad impostare la nostra email di paypal basterà andare in impostazioni per andare poi a ritirare i guadagni basterà andare su ritirarsi ragazzi e per andare a guadagnare soldi scrivendo gli articoli come vedete veramente semplice come pagina basterà andare su aggiungi articolo una volta andati su aggiungi articolo basterà scrivere il titolo del nostro articolo la categoria dell'articolo una breve descrizione e andiamo qui sotto a scrivere il nostro contenuto possiamo farci dare anche una mano da Google ragazzi per esempio andiamo a scrivere un articolo sui dieci animali più strani del mondo e come vedete Google ci dà una mano e ci dice quali sono i dieci animali più strani del mondo possiamo andare a vedere questo articolo qua ragazzi ok non possiamo ovviamente copiare l'articolo intero ma possiamo andare a leggere l'articolo e con parole nostre riportare questo articolo qua all'interno di eCashMag all'interno del nostro paragrafo una volta che avete inviato l'articolo basterà andare su e-mail articoli e qua come vedete tutti gli articoli che andiamo a fare saranno messi in revisione una volta che sarà passata la revisione il nostro annuncio sarà pubblicato all'interno di eCashMag e per ogni visualizzazione andiamo a guadagnare dei soldi quindi che cosa aspetti? iscriviti ai eCashMag ti lascio il link qui sotto in descrizione se vuoi guadagnare soldi andando a scrivere articoli se invece sei un appassionato di gaming e vuoi guadagnare soldi in automatico guardando semplicemente dei video e andando a giocare ti consiglio Fruit Lab sempre serio e pagante si possono ritirare i punti guadagnati in buoni regalo Amazon e altre carte regalo e si possono ovviamente andare a ritirare i soldi direttamente sulla nostra carta di credito Fruit Lab sempre serio e pagante se sei iscritto al mio canale Telegram tutti i punti che faccio con Fruit Lab li vado a convertire in buoni regalo Amazon da 5 euro e li vado ad inviare nel mio gruppo Telegram ovviamente il primo che riesce a scrivere il codice del buon regalo sul suo conto personale di Amazon vince i soldi sul suo conto personale si può acquistare tutto quello che vuole questo sito qua è chiamato Fruit Lab un altro sito che ci permette di guadagnare criptomonete andando a guardare i video non ci crederete ma è Coinbase mi lascerò il link qui sotto in descrizione del video di Coinbase Earn si chiama andiamo praticamente a guadagnare le criptomonete andando ad imparare proprio che cosa sono le criptomonete con questi brevi video abbiamo la possibilità di guadagnare veramente un sacco di soldi in criptomonete lo consiglio a tutti perché attualmente il valore delle criptomonete è calato quindi abbiamo più possibilità di guadagnare il doppio se un giorno la criptomonete chiamata Bitcoin ritorna sui 10.000 dollari quindi possiamo guadagnare fino a 166 dollari andando a guardare semplicemente dei video e andando a rispondere ai questionari invece se vuoi guadagnare soldi senza fare praticamente niente ti consiglio questo sito serio e pagante chiamato FluidStack cosa succede? una volta che ti sei registrato ti farà scaricare un programma si può utilizzare solamente tramite il pc questo programma qua una volta che l'hai impostato ti farà guadagnare in automatico dei soldi qua potete vedere la prova di pagamento di FluidStack ti fa guadagnare soldi solamente lasciando acceso il programma questo programma qua che cosa fa? va praticamente ad utilizzare un po' della nostra rete wifi e la va a condividere quindi che cosa stiamo facendo? stiamo noleggiando noi a FluidStack la nostra rete wifi e ovviamente il sito ci paga per questo i guadagni sono mensili e sono automatici una volta arrivato il prelevo minimo riceverai soldi sul tuo conto personale di Paypal questo sito qua è chiamato FluidStack Provider un altro metodo per guadagnare soldi online è grazie a questo sito qua chiamato TesterJob qui ragazzi praticamente andiamo a guadagnare soldi andando a dare le recensioni sui prodotti di Amazon è 100% gratuito ci sono più di 25.000 tester soddisfatti non ci sono sondaggi sono solo dei test di prodotti dove noi possiamo dare poi la nostra recensione personale con questo sito possiamo lavorare ovunque noi siamo possiamo ricevere prodotti in modo completamente gratuito e abbiamo la possibilità di guadagnare fino a 10 euro a recensione di un prodotto su Amazon possiamo ovviamente lavorare in qualsiasi momento ed è completamente gratuito il sito è chiamato TesterJob veramente semplice dobbiamo scegliere i prodotti che ci sono all'interno del sito i prodotti verranno spediti a casa nostra diamo una nostra recensione al prodotto e veniamo pagati per farlo ebbene ragazzi per il video è tutto avete appena visto 5 metodi per guadagnare soldi comodamente da casa utilizzando il nostro pc il primo metodo eCashMag andiamo praticamente a guadagnare soldi andando a scrivere articoli invece se vuoi guadagnare soldi andando a guardare semplicemente dei video con il secondo metodo di FruitLab e il terzo di Coinbase puoi guadagnare soldi in automatico semplicemente guardando dei video il quarto metodo invece chiamato FluidStackProvider ti farà guadagnare soldi in automatico andando a scaricare un programma nel tuo pc e andando a condividere la tua rete wifi vieni pagato fino a 50 dollari al mese l'ultimo metodo che abbiamo visto è chiamato TesterJob dove vieni pagato per recensire prodotti di Amazon ebbene ragazzi per il video è tutto mi raccomando se volete iscrivetevi al canale di Felix attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video futuri noi ci vediamo e ci sentiamo in un prossimo video ciao da Felix